Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi torneremo a parlare di come rendere smart qualunque monitor oppure televisore e lo faremo analizzando a grandi linee pregi e difetti di tutti quei dispositivi che si adattano allo scopo e che ci piacciono così tanto perché permettono con poca spesa di modificare completamente l'esperienza utente. Infatti è innegabile che in questi ultimi anni complice anche l'espansione sempre più importante delle piattaforme online che offrono contenuti on demand è cambiato radicalmente il modo in cui usiamo il televisore. Infatti ai tradizionali canali televisivi ricevibili ancora tramite l'antenna tradizionale si sono affiancati tutta una serie di contenuti digitali che vengono distribuiti via internet. Sebbene molti televisori integrino delle funzioni smart è altrettanto vero che queste funzionalità non sono seguite dai produttori nel corso del tempo con degli aggiornamenti per cui diventa molto probabile che dopo qualche anno un televisore ancora perfettamente funzionante non sia più in grado di soddisfare le richieste degli utenti. Ed è proprio in queste eventualità che entrano in gioco i dispositivi a cui ho accennato qualche secondo fa che collegati ad una porta hdmi della televisione permettono di bypassare il sistema operativo del televisore mettendo a disposizione una serie di servizi e contenuti aggiuntivi. Ora però districarsi in questo mare di proposte può essere particolarmente complicato perché sul mercato esistono tantissime soluzioni che teoricamente dovrebbero permettere di fare le stesse cose ma che poi in realtà differiscono in uno o più aspetti per cui diventa molto facile sbagliare l'acquisto per poi ritrovarsi tra le mani un dispositivo che non soddisfa le aspettative. Sicuramente moltissimi di voi chi mi segue sicuramente perché è un argomento che ho trattato e tratto con molta assiduità qui sul canale avranno sentito parlare di Fire TV Stick alla quale ho dedicato moltissimi tutorial, Chromecast, Now TV Stick eccetera mentre probabilmente una percentuale minore avrà sentito parlare di TV Box Android e ancora meno persone sapranno realmente cosa si può fare con questo dispositivo. Lo scopo del video di oggi è proprio quello di analizzare una ad una queste soluzioni in modo da capire almeno grandi linee, pregi e difetti di ogni singolo dispositivo ed in particolare partiremo velocemente da TV Box Android per poi proseguire con le altre soluzioni come Mi TV Stick, Fire TV Stick e Chromecast con Google TV. Innanzitutto prima di entrare nel vivo del video chiediamo cosa significa rendere smart un televisore oppure un monitor perché spesso vedo che c'è anche un po' di confusione riguardo ai contenuti che è possibile vedere con i dispositivi che vi ho appena elencato ed in particolare la domanda che mi viene posta più spesso riguardo i canali televisivi tradizionali e in questo caso la risposta è che usando le soluzioni di cui ci occuperemo oggi è possibile vedere esclusivamente i canali televisivi di quelle emettenti che possiedono una piattaforma dedicata come ad esempio la RAI con RAI Play mentre per le altre stazioni televisive non è possibile a meno di non acquistare delle soluzioni ibride dotate quindi anche di digitale terrestre. Detto questo prima di proseguire e questa volta ve lo chiedo per davvero con il cuore in mano perché questi tutorial hanno bisogno di una lunga fase di preparazione alle spalle prima di essere registrati vi chiederei gentilmente se volete vedere altri contenuti di questo tipo di farmelo sapere iscrivendovi al canale commentando condividendo e mettendo mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e poi vi invito anche ad unirvi al gruppo telegram così da rimanere aggiornati sulle novità future. Per partire direi che possiamo cominciare con l'analizzare questi dispositivi sia esteriormente che dal punto di vista dell'hardware perché come vedete le dimensioni variano notevolmente tra i tv box android che sono questi due scatolotti e le altre chiavette che sono proposte dalle varie piattaforme e questa diversità di dimensioni non rappresenta esclusivamente un fattore estetico fino a se stesso perché le differenze sono all'interno infatti come vedete la prima cosa che salta all'occhio è che i tv box android hanno molte più porte sia di input che di output rispetto alle stick che hanno esclusivamente una porta in entrata che può essere micro usb come nel caso della mi tv stick e della fire tv stick oppure una più recente usb di tipo c come per la croncast con google tv porta che serve però esclusivamente per collegarle alla rete elettrica per cui come vedete normalmente un tv box android anche se ovviamente la dotazione può variare a seconda del modello dispone di diverse porte usb che si possono usare per collegare delle pinete usb oppure dei dischi esterni oppure ancora mouse e tastiere sia tradizionali con il cavo che wireless per mezzo di adattatori wifi che sono in dotazione con la tastiera poi c'è naturalmente anche la porta hdmi che serve invece per il collegamento con la tv solitamente c'è anche la porta audio ottica digitale che permette il collegamento con amplificatori esterni come home theater oppure soundbar c'è la porta ethernet che serve per il collegamento a internet con il cavo e solitamente c'è anche uno slot per schedine micro sd che servono per aumentare la memoria interna sulla quale è possibile salvare sia le applicazioni che i giochi scaricabili dal play store ma anche documenti video e quant'altro ovviamente però questa varietà di porte necessita per essere gestita al meglio anche di un hardware sufficientemente potente e questa è un'altra grossa differenza tra le chiavette e tv box android infatti questi ultimi hanno una componentistica che naturalmente varia da modello a modello ma che nella totalità dei casi è decisamente più prestante e performante rispetto alle chiavette basti pensare che normalmente un tv box android di ultima generazione possiede quanto meno 4 gigabyte di memoria ram contro i soli 2 gigabyte ad esempio della nuova croncast anche il processore è decisamente più potente così come lo spazio di archiviazione infatti per il tv box non è raro trovare delle memorie interne che arrivano fino a 128 gigabyte contro i soli 8 gigabyte avete capito bene solamente 8 gigabyte che lo spazio di archiviazione a disposizione su tutte e tre le restanti soluzioni che sono qui e quindi mi tv stick fire tv stick e la nuova croncast a questo punto sbagliando però si potrebbe pensare che non ci sia storia e che quindi basandoci esclusivamente sulle specifiche un tv box android sia migliore rispetto alla concorrenza in realtà però come sappiamo bene la dotazione hardware per importante che sia è solo una faccia della medaglia perché un ruolo di primo piano lo gioca il software che c'è all'interno e che si occupa di gestire i componenti della piattaforma mettendoli poi in comunicazione con l'utente. Ora la differenza sostanziale tra tutte queste soluzioni si trova proprio nel sistema operativo infatti i tv box tradizionali che si possono acquistare sia su amazon sia di importazione usano più o meno lo stesso software che si trova sugli smartphone oppure sui tablet android mentre le varie chiavette usano dei sistemi operativi sempre basati su android che però sono stati pensati e sviluppati per le televisioni e qui c'è la prima grande differenza che poi è quella su cui si gioca l'intera esperienza utente tra questo e tutti gli altri dispositivi di cui stiamo parlando oggi. Questo perché ovviamente come sappiamo bene lo smartphone possiede un display che è sensibile al tocco che quindi usiamo con le dita caratteristica che naturalmente però lo schermo della televisione non possiede e quindi le dita devono essere sostituite con un telecomando come questo che fa parte della dotazione standard di qualsiasi tv box. Telecomando che però non riesce a sostituirsi in tutto e per tutto alle nostre mani infatti in alcuni casi bisogna per forza di cose utilizzare il cursore del mouse che è sì integrato nel telecomando per cui si può attivare premendo il tasto dedicato e che poi si può spostare utilizzando i tasti oppure il pad direzionale il che però risulta molto lento e macchinoso per cui diventa obbligatorio affiancare al telecomando un mouse e un'altra stella tradizionale con cavo bluetooth oppure wireless è indifferente il che però ovviamente rende più macchinosa e quindi in definitiva fa peggiorare l'esperienza utente perché invece come vedremo le stick si possono controllare nella loro totalità utilizzando sia il telecomando in dotazione che come vedete è molto semplice ed intuitivo ma anche possibile interagire solamente con la voce impartendo quindi dei comandi vocali questo perché tutte le chiavette integrano un assistente vocale che naturalmente sarà l'ex per le varie fire tv stick oppure l'assistente di google per la nuova croncast e per tutti i dispositivi basati invece su android tv un'altra differenza che riguarda i telecomandi è che quelli dei tv box android sono ad infrarosso e quindi devono essere puntati direttamente verso il ricevitore senza ostacoli nel mezzo mentre quelli delle chiavette funzionano via bluetooth e quindi continuano a lavorare anche se ci sono eventuali ostacoli ma non poteva essere altrimenti perché naturalmente le stick vista la loro conformazione si collegano direttamente alla porta hdmi del televisore senza bisogno di cavi come invece succede per i tv box e quindi si nascondono dietro la tv sperando di aver chiarito a sufficienza questo che è uno dei punti cruciali possiamo passare ad analizzare brevemente l'interfaccia utente di un tv box android che come vedete è diversa rispetto a quella di uno smartphone perché naturalmente i produttori cercano di personalizzarla rendendola il più compatibile possibile con il telecomando ed infatti è possibile muoversi all'interno senza particolari problemi che invece nascono quando si tratta di utilizzare alcune applicazioni e qui bisogna fare però la prima distinzione perché su tutti questi dispositivi e quindi tv box e stick si può ad esempio trovare lo stesso servizio che però sarà in versione differente ed in particolare su tv box android troveremo la stessa applicazione che usiamo sullo smartphone e quindi la versione mobile mentre sulle chiavette c'è una versione sviluppata per essere usata con la tv e che quindi sarà completamente compatibile con il telecomando che viene fornito assieme alla stick mentre per il tv box android per emulare i tocchi dovremo usare il mouse in alcuni casi per alcune applicazioni come ad esempio youtube la versione sviluppata per la televisione è compatibile anche con il tv box e quindi diventa fruibile al 100% con il telecomando in dotazione mentre in molti altri casi non c'è questa compatibilità e quindi utilizzare un mouse diventa obbligatorio e qui c'è la seconda grande differenza tra le stick e tv box android che riguarda il ventaglio di applicazioni disponibili infatti il play store che abbiamo a disposizione su tv box è lo stesso degli smartphone e quindi completo di tutto mentre sulle altre chiavette saranno disponibili solamente le applicazioni che come abbiamo detto sono state personalizzate per essere utilizzate con la televisione che sono naturalmente una minima parte dell'intero play store e quindi tra le altre cose un tv box android permette ad esempio di installare strumenti per la produttività individuale come ad esempio word excel powerpoint e quant'altro di gestire la posta elettronica di navigare su internet utilizzando chrome di consultare la mail facebook instagram telegram e molto altro ancora ed è proprio per questo che rispetto alla concorrenza lo spazio di archiviazione interno è molto più che appiente infatti parliamo come vi ho già detto di 128 gigabyte espandibili contro i soli 8 gigabyte delle stick e più o meno lo stesso discorso che abbiamo appena visto per le applicazioni si può fare anche con i giochi tenendo però ben presente che non tutto quello che si trova sul play store è compatibile con il gamepad per cui senza entrare troppo nel tecnico a volte si può risolvere usando delle applicazioni di key mapping che permettono di emulare i tocchi con le dita mentre in alcuni altri casi non si può fare niente per cui l'applicazione non è usabile fin qui tutto molto interessante ma questo tipo di utilizzo che è più assimilabile a quello di un computer se vogliamo piuttosto che a quello di una televisione tradizionale si rivolge naturalmente esclusivamente ad una nicchia di utenti perché invece la maggior parte è interessata solamente la visione di contenuti multimediali usando servizi come ad esempio prime video netflix e così via piattaforme queste che sono disponibili anche su tv box per i quali però per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo spiegare in questa sede argomento che però ho trattato in altri video dedicati che ovviamente trovate qui sul canale non sono visibili in alta definizione ma esclusivamente in qualità standard e quindi con un'esperienza visiva che assimilabile a quella delle vecchie televisioni a tubo catodico e questo è un altro grande limite dei tv box rispetto alle stick che invece consentono la visione in alta definizione e in molti casi acquistando la versione più performante anche in 4k discorso questo che resta valido per la totalità delle piattaforme online ad esclusione di youtube che invece è visibile anche da tv box in hd e in alcuni casi in 4k usando la versione dell'applicazione sviluppata per android tv rimanendo in ambito multimediale quello che invece rende migliori i tv box android rispetto alle concorrenti è la possibilità di vedere contenuti locale collegando come vi ho già detto ad una delle porte usb una pennetta oppure un hard disk contenuti che in questo caso sono riprodotti senza particolari problemi fino a 4k hdr e 10 bit e quindi per concludere questa prima parte come abbiamo visto i tv box android sono notevolmente più versatili ma allo stesso tempo più complicati da utilizzare e con dei limiti per quanto riguarda la qualità della riproduzione video dalle principali piattaforme di servizio online con l'unica esclusione di media set play che ad oggi è compatibile esclusivamente con i tv box android e non con la concorrenza per cui dal punto di vista della fruizione dei contenuti online l'unica ragione per preferire un tv box rispetto alle altre soluzioni riguarda proprio media set play detto questo mettiamo da parte tv box e concentriamoci invece sugli altri dispositivi dove come avrete notato ho incluso anche il mi box che è un ibrido una soluzione ponte tra le stick e tv box android questo perché come vedete il fattore di forma è lo stesso di un tv box anche se in questo caso meno ricco di porte di comunicazione infatti manca la porta lan c'è esclusivamente una porta usb e non c'è uno slot per schedine micro sd ad ogni modo dicevo che questa è una via di mezzo tra i due estremi perché il sistema operativo invece è lo stesso o meglio quasi lo stesso delle concorrenti più leggere e per il mi box è possibile sfruttare la porta usb per collegare ad esempio un mouse il che permette di usare alcune delle applicazioni sviluppate per dispositivi mobili oppure di collegare delle pennette e degli hard disk per riprodurre video locale ma anche per connettere eventuali adattatori a ethernet che consentono il collegamento ad internet via cavo come il mi box si trovano altri dispositivi con lo stesso sistema operativo e lo stesso fattore di forma come questo qui di lel box che però è molto più ricco di porte al pari del tv box che abbiamo analizzato fino ad ora dispositivi che però pur avendo lo stesso sistema operativo del mi box per varie ragioni non sono compatibili con netflix e che ovviamente per molti utenti potrebbe essere una pregiudiziale assoluta detto questo mettiamo per davvero da parte tv box e passiamo alle chiavette che come vi dicevo sono la fire tv stick la mi tv stick e la nuova croncast con google tv ora a prescindere da considerazioni puramente estetiche che sono del tutto personali come vi ho anticipato nell'introduzione tutte queste soluzioni possiedono solamente una porta di input che serve per collegarle alla rete elettrica e in alcuni casi se è sufficientemente potente è possibile farlo usando una porta usb della televisione il che ha anche il grosso vantaggio che spegnendo la tv toglieremo l'alimentazione anche dalla chiavetta che altrimenti resterà sempre accesa anche se naturalmente in standby ora sia per l'amazon fire tv stick che per la nuova croncast con google tv è possibile bypassare questo limite delle porte di input utilizzando un adattatore come questo qui ad esempio che permette dopo averlo collegato alla stick sia di alimentarla utilizzando questa estremità sia di collegare a quest'altro capo delle periferiche esterne come chiavette oppure dischi esterni ma anche delle tastiere mouse ma esistono anche degli adattatori più completi che prevedono oltre a delle porte usb anche la porta lan per il collegamento ad internet con il cavo che vi ricordo è una soluzione molto più stabile e quindi preferibile del wifi che comunque è molto buono sia per la fire tv stick che per la nuova croncast google tv e può essere usato con soddisfazione nella maggior parte delle situazioni e vi ricordo che ad oggi praticamente tutti i dispositivi supportano il wifi a doppia banda e quindi a 2,4 e a 5 gigahertz purtroppo però questo ragionamento degli adattatori non vale per la mi tv stick che non supporta questo tipo di espansione il che per quello che è il mio tipo di utilizzo la rende già inevitabilmente da non prendere in considerazione rispetto alla fire tv stick e la nuova croncast ora prima di passare ad analizzare la parte software vediamo un attimo di approfondire i telecomandi che come vedete sono abbastanza simili questo ad esempio è quello della fire tv stick questo qui invece è quello della nuova croncast mentre questo che è anche l'ultimo è quello della mi tv stick tutti e tre come vedete hanno il pulsante dedicato per attivare l'assistente vocale che nel caso della fire tv stick alexa mentre per gli altri due dispositivi è l'assistente di google la differenza è che la fire tv stick possiede i tasti multimediali indietro avanti play pausa mentre gli altri due hanno due pulsanti per netflix e prime video ed inoltre tutti e tre permettono anche di controllare il volume dell'audio mentre come vi dicevo a differenza di tv box android questi sono telecomandi bluetooth che quindi funzionano anche senza puntarli direttamente verso il ricevitore il che migliora incredibilmente l'esperienza di utilizzo detto questo direi che è arrivato il momento di concentrarci sulla parte software per cui la mi tv stick è basata su android tv che come vi ho già detto è la versione di android sviluppata per le televisioni la fire tv stick invece è basata su fire os un sistema proprietario sempre basato su android che al momento è disponibile in ben tre versioni a seconda del tipo di chiavetta per cui i due nuovi modelli che sono stati rilasciati nel 2020 hanno la nuova versione che è arrivata alla release 8 e che porta con sé un'interfaccia molto migliorata la fire tv stick di prima generazione invece è ferma alla versione 5 e non verrà aggiornata mentre la fire tv stick 4k in attesa dell'aggiornamento all'ultima release è ferma alla versione 7 invece la mi tv stick è gestita da android tv che come vi dicevo è un sistema operativo sviluppato da google per le televisioni e quindi è anch'esso completamente fruibile con il telecomando in dotazione ed infine la nuova chromecast con google tv che è gestita sempre da android tv alla quale però è stata applicata una nuova interfaccia utente e quindi una nuova impostazione grafica chiamata per l'appunto google tv che rispetto a quella che abbiamo visto qualche secondo fa per la mi tv stick è più basata sui contenuti rispetto alle applicazioni da dove questi ultimi provengono ora se non vi interessano le possibilità di espansione di cui abbiamo parlato fino ad ora anche la mi tv stick potrebbe essere una buona soluzione per la visione di contenuti online infatti sul play store di android tv ci sono tutte le principali applicazioni che sono visibili fino alla massima risoluzione disponibile lo spazio di archiviazione però è di soli 8 gigabyte il che rappresenta un limite alla quantità di applicazioni installabili e la qualità costruttiva non è che sia propriamente delle migliori perché usandola intensivamente tende a scaldare davvero troppo il che a lungo andare potrebbe usurare i componenti interni per quanto riguarda invece le applicazioni disponibili sul play store di android tv c'è praticamente tutto a parte ovviamente il media set play di cui vi ho già detto e now tv che se non ricordo male per android tv è disponibile solamente per le televisioni sony e oltre al telecomando come abbiamo visto c'è anche l'assistente vocale di google che permette di cercare contenuti avviare applicazioni altro con dei semplici comandi vocali inoltre i vari servizi sono tutti visibili alla massima risoluzione disponibile o comunque a quella sottoscritta con l'abbonamento mettendo da parte la mi tv stick ora ci restano da vedere la fire tv stick e la nuova chromecast con google tv per il momento su amazon esistono come vi ho detto tre modelli di fire tv stick le prime due più economiche che possono riprodurre contenuti esclusivamente fino al full hd variano per il telecomando infatti uno integra anche i comandi per la televisione che permettono di spegnerla accenderla e di regolare il volume mentre l'altro quella in dotazione alla più economica non possiede questa funzionalità interfaccia utente che come vi dicevo è stata rivista ed è già in dotazione ai due modelli meno performanti mentre siamo ancora in attesa dell'aggiornamento per quanto riguarda la fire tv stick 4k che comunque a quanto dicono dovrebbe arrivare a breve interfaccia utente che naturalmente fruibile anche in questo caso al 100 per cento con il telecomando oppure con alexa l'assistente vocale di amazon ed è possibile anche un'integrazione con gli altoparlanti intelligenti della serie eco sempre di amazon e qui sul canale a questo proposito trovate moltissimi tutorial riguardanti proprio la fire tv stick ai quali ovviamente vi rimando per un approfondimento delle varie funzionalità la fluidità del sistema è ottima così come la riproduzione dei contenuti online le applicazioni sono disponibili sullo store proprietario di amazon che nel tempo è diventato sempre più completo e anche se la quantità di applicazioni è probabilmente ancora minore rispetto ad android tv ci sono comunque tutti i servizi più importanti come ad esempio netflix prime video ovviamente disney plus da zone e apple tv che non è ancora disponibile sulla nuova croncast con google tv dove dovrebbe arrivare a breve come now tv che invece non è disponibile né su android tv né sulla nuova croncast ma dovrebbe invece arrivare a breve sulla fire tv stick oltre ai contenuti multimediali ci sono anche dei giochini alcuni gratuiti e altri a pagamento molto semplici a cui si può giocare con il telecomando oppure abbinando via bluetooth un controller di gioco apri netflix riproduci la casa di carta torna alla home apri prime video riproduci sneaky pity cerco sneaky pity su prime video Vai avanti di 30 secondi. Torna alla home. Mostrami le previsioni del tempo. Ecco che tempo fa l'home. Torna alla home. La reale differenza tra la Fire TV Stick e la nuova Chromecast con Google TV è rappresentata dall'interfaccia utente che Google ha reso più orientata ai contenuti che non alle applicazioni dalle quali essi provengono. Il che rende più semplice districarsi tra la marea di film e serie TV che compongono il catalogo sempre più vasto delle varie piattaforme. Anche in questo caso l'interfaccia utente è molto fluida, l'esperienza è ottima, gli aggiornamenti sono costanti e non poteva essere altrimenti. L'assistente vocale di Google si comporta bene sia nell'aprire applicazioni che nel cercare contenuti. Inoltre per chi ama giocare, oltre ai giochi presenti sul Play Store, c'è anche la compatibilità con GeForce Now, il servizio di Nvidia e prossimamente a completare il tutto ovviamente arriverà anche supporto a Google Stadia. La scelta quindi tra queste ultime due soluzioni dipende principalmente dal tipo di ecosistema domestico, per cui se in casa utilizzate Alexa è probabilmente più giusto rivolgersi verso la Fire TV Stick e viceversa invece usando l'assistente di Google. Apri Netflix Avvio Netflix su Crocast Riproduci la casa di carta Apri Prime Video Apri Prime Video Ascriviti su Prime Video Apri YouTube Apri YouTube Avvio YouTube su Crocast cerca film thriller mostrami le previsioni del tempo in questo momento a luna la SES c'è meno 1 gradi e cielo per lo più nuvoloso stanotte si prevedono meno 3 gradi e cielo nuvoloso e quindi per riassumere come abbiamo visto i tv box android sono più completi ma al contempo ostici e con alcuni limiti derivanti principalmente dal sistema operativo mentre le restanti soluzioni sono sicuramente meno versatili ma con un'esperienza di utilizzo molto più semplice che richiama ricorda quella della televisione tradizionale per cui la scelta di orientarsi verso una soluzione piuttosto che un'altra credo che sia molto soggettiva e dipenda proprio dalle aspettative individuali personalmente in casa possiedo e a seconda di quello che devo fare uso tutte le soluzioni che vi ho proposto a parte per il mio box e la mi tv stick alle quali preferisco di gran lunga la fire tv stick e la nuova croncast con questo credo di aver concluso questo lunghissimo ma al contempo spero interessante e non noioso tutorial con il quale ho la speranza di avervi chiarito i dubbi in modo così da poter scegliere il dispositivo che meglio si adatta alle vostre esigenze detto questo come sempre per maggiori informazioni trovate tutto quanto qui sotto in descrizione dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione ci vediamo alla prossima ciao da Gianni